A Funding and Capital Markets Forum 2016 si è fatto il punto sull'accesso delle imprese al mercato obbligazionario. Quali sono le novità? Il forum è stato l'occasione per fare un primo bilancio dell'accesso da parte delle imprese al mercato dei capitali, in particolare a tre anni dal lancio del mercato dei mini bond in Italia. Ad oggi sono stati emessi 6,8 miliardi di Euro da parte di emittenti italiani con quasi 180 emissioni, metà delle quali lanciate da piccole e medie imprese. Quello che emerge è un trend di riduzione degli importi emessi e soprattutto dei rendimenti dei mini bond, quindi una riduzione dei costi di finanziamento per le imprese che accedono al mercato obbligazionario. Si vede però anche che probabilmente sebbene il mercato si stia sviluppando e continua a svilupparsi, in realtà questo non consente di risolvere il problema del settore delle piccole e medie imprese italiano, che è come è noto caratterizzato da una debolezza strutturale dovuta alla dimensione, alla scarsa patrimonializzazione e capitalizzazione e soprattutto ad una struttura dei finanziamenti sbilanciata sul breve periodo e soprattutto sui finanziamenti bancari. Quindi ancora il mercato, lo sviluppo di questi ultimi anni del mercato obbligazionario per le PMI non ha ancora evidentemente portato i benefici attesi. Come è possibile superare questi ostacoli? Sostanzialmente il problema fondamentale è che l'accesso al mercato dei capitali da parte soprattutto delle piccole imprese è ancora molto difficile. E' molto difficile perché richiede sicuramente un cambio culturale, oggi il finanziamento, il costo dei finanziamenti bancari è ancora molto competitivo rispetto al costo dei finanziamenti tramite il mercato, quindi per aiutare le piccole imprese ad accedere al mercato dei capitali serve sostanzialmente sviluppare strumenti di accesso indiretto. Durante il forum si è discusso ad esempio dell'utilizzo delle cartoralizzazioni anche applicate agli strumenti obbligazionari e poi si è anche parlato di uno strumento innovativo che è quello dei bond di filiera, cioè bond emessi da raggruppamenti di imprese che sono tra loro collegati da una relazione industriale, appunto la filiera industriale e questo consente ad imprese che hanno difficoltà per dimensione o per qualità di rating, di merito creditizio, di accedere al mercato insieme sfruttando le potenzialità dello strumento obbligazionale. L'Italia è il primo paese a progettare i bond di filiera, un altro esempio di come stiamo cercando di sostenere lo sviluppo delle aziende, in particolare delle PMI. Sì, sicuramente non è un caso che il mercato dei mini bond sia partito tre anni fa in Italia, grazie alla riforma regolamentare e fiscale avviata dal governo italiano, in largo anticipo rispetto all'onda d'urto del progetto della Capital Markets Union della Commissione Europea. Quindi il tema dell'accesso delle imprese al mercato dei capitali in Italia è arrivato prima in realtà dell'Europa.